Per la rubrica notizie porcata, io ho tre notizie main notice, se possiamo dire, molto interessanti, news, clue, news clue, news clue. Voi non aprite i giornali, leggete le mie notizie, pensa che roba. La prima è la tentata in Indonesia, tentata in Indonesia, kamikaze, ma sono paesi che hanno comunque un fondamentalismo islamico, hanno dei problemi anche di sicurezza, infiltrazioni, jihad, il daesh, eccetera. Poi abbiamo, secondo argomento che possiamo dire, ah ho letto della nave, la nave che non riescono a scagliarla, tanti auguroni, ah inizia il moto mondiale, tra l'altro inizia il moto mondiale, F1, seguiremo un po' le cose basi, non è che sono un grande appassionato, però qualcosina, qualche info ve la do. E niente, tornando alla nave, è incagliata, hanno chiamato i rimocchiatori italiani, dovranno scaricare il container, domani tanti auguri per il MIB che aprirà in positivo. Ciao ciao!